Un anno e qualcosa dall'elezione di questo Consiglio Comunale, poi è nata l'amministrazione guidata da Enzo Falco che fa il sindaco a tempo pieno qui ormai a Caimano. Qualche problemino ma adesso ci rimettiamo in moto e niente, i progetti, le ansie e le speranze di questa terra con la prospettiva di superare tutto, Covid compreso. Intanto buonasera a tutti, certo un anno di grandi fatiche, di grandi semine anche, anche di qualche rammarico perché ovviamente non sempre siamo riusciti a fare tutto quello che abbiamo in programma di fare e che ovviamente ha bisogno di un po' di tempo, immagino le strade, le buche famose, alcuni interventi di manutenzione ordinaria che in una situazione di mancanza di manutenzione da 15 anni è chiaro diventa ancora più problematico intervenire ma adesso siamo pronti per partire, nel bilancio abbiamo avuto qualche difficoltà per le note vicende di rinvii e di proroghe che ovviamente a livello nazionale vengono inevitabilmente adesso siamo in full position. Ovviamente un anno difficile soprattutto legato al fatto che noi abbiamo due problematiche forti e sono assolute. Una, la mancanza di una struttura efficiente, manca il personale, bisogna fare delle assunzioni e purtroppo non siamo riusciti a fare anche quelle poche assunzioni che sono necessarie all'ufficio tecnico, alla regioneria, nei punti strategici, al comando vigili e dall'altro anche purtroppo ancora uno strascico che anche se siamo usciti dal dissesto inevitabilmente ci pone il problema di avere ancora delle sofferenze e l'operazione verità sui conti per noi è essenziale per poter partire veramente col piede è stato qualche cambio in giunta, doloroso, indolore, non lo sappiamo ma comunque si riparte ecco come hai riaggiustato. Quello dell'aggiunta e della rappresentanza è sempre un nodo molto complicato soprattutto in una situazione nella quale è questo credo sia patrimonio di conoscenza di tutti noi dove la politica non è proprio diciamo non c'è una classe diligente non ci sono partite di una volta che avevano l'autorevolezza nei confronti dei consiglieri comunali e avevano in qualche modo quell'autorevolezza di rappresentare anche se in uno scontro dielettico con altre forze politiche quella necessaria sintesi che inevitabilmente ci deve stare e quindi ho dovuto assumere io la responsabilità delle scelte e ovviamente poiché due litri di vino in una bottiglia di un litro non ci vanno e poiché c'erano otto richieste e sette postazioni inevitabilmente ho dovuto fare io una scelta mi hanno lasciato il cellino in mano e purtroppo ho dovuto chiedere a chi ti è più vicino a Maria Ladonesi che ovviamente io conosco da 40 anni abbiamo avuto frequentazioni umane, politiche, insieme ma addirittura già dalle nostre famiglie, famiglie storiche ovviamente la cosa importante è che l'articolo 1 che rappresentava ha manifestato la voglia di continuare a sostenere la maggioranza nonostante il rammarico ovviamente pronosciuto di questo genere il che significa che forse qualche barlume ancora di senso di responsabilità e di politica c'è ancora e quindi in questo periodo è merce rara ho chiesto questo sacrificio a Mariella lei politicamente ha accolto ovviamente anche se è con rammarico ripeto giustamente subito sono dato la dimissione abbiamo fatto quadrare il cerchio bisogna lavorare in realtà noi non ci siamo mai fermati perché abbiamo seminato molto in questo periodo e quindi di questo penso che potremmo parlarne in modo puntuale e in modo abbondante diciamo una crisi di crescita e in questo anno, questo anno e due mesi hai fatto tante cose e soprattutto di cosa vai fiero una cosa che hai fatto e vai fiero e poi le prospettive questo ripeto è un anno di crescita e che nonostante le difficoltà di cui parlavamo prima abbiamo veramente determinato un salto di qualità su una scelta fondamentale che è stata una mia prerogativa mettere in bilancio un fondo di rotazione per le progettazioni le nostre difficoltà nei comuni è sempre stata quella di non avere un parco progetti all'altezza e oggi a maggior ragione con il PNRR tu devi essere pronto con dei progetti ovviamente coerenti con la tua visione di città per poter cogliere tutti i finanziamenti possibili e immaginabili che ce ne sono a Iosa veramente sono tantissimi anzi c'è il problema di spenderli e di spenderli bene e qui ci riportiamo di nuovo alla struttura burocratica ma nel PNRR c'è la possibilità di fare delle assunzioni a termine sono previste delle possibilità di strutturare gli uffici anche se a termine in modo più congruo esattamente per cogliere tutte le prospettive e tutte le opportunità del PNRR la notizia bellissima è venuta il 31 dicembre di quest'anno dove ci hanno comunicato il finanziamento di 5 milioni di euro per realizzare in termini di riqualificazione urbana 4 aree verdi una pista ciclabile la torre dell'orologio qui in piazza e che sono un primo step di un altro finanziamento che noi aspettiamo molto più congruo che avverrà a fine mese con il contratto istituzionale di sviluppo che ha voluto fortemente e di questo la ringrazio il Ministro per il Sud Carfagna che devo dire ha fatto veramente un ottimo lavoro di organizzare i territori e questo è l'altro aspetto di cui mi vanto perché mettere insieme i sindaci su delle progettualità che non siano direttamente in riferimento al tuo confine amministrato credo che sia l'altro grande salto di qualità che abbiamo fatto in questo periodo giustamente metti diciamo non il dito nella piaga ma metti a fuoco una problematica che è quella della città metropolitana se noi vogliamo questi problemi che si devono affrontare assieme prima hai fatto riferimento al PNRR la città metropolitana che non sappiamo ancora come si avvierà e soprattutto le risposte a questa terra che ha tanto tanto bisogno ecco dicevamo il verde spazi verde di riprendersi dopo diciamo anni e di vorrei dire di abbandono da questo punto di vista noi abbiamo segnato come territorio e in questo faccio riferimento ovviamente alla fascia dei comuni a nord di Napoli e quella a sud di Casetta che corre lungo i reggi lagni noi abbiamo avuto un momento diciamo critico di questa terra che viene ovviamente ricordata come terra dei fuochi proprio a partire dal degrado che è venuto proprio dai reggi lagni bene nel contratto istituzionale di sviluppo anche per mia forte determinazione sulla quale ovviamente ho trovato il consenso di altri sindaci in particolare di Aceri e di Marcianise abbiamo ripreso il grande progetto reggi lagni la riqualificazione dei reggi lagni sarà in qualche modo anche simbolicamente il riscatto di tutto questo nostro territorio hai fatto scenno ovviamente alla città metropolitana ci saranno le elezioni a breve io spero che non passi sotto silenzio un dibattito sull'area metropolitana di Napoli che purtroppo non c'è stato in relazione alle elezioni del sindaco oggi arriviamo all'appuntamento che sarà probabilmente rinviato che è un'elezione di secondo livello senza un dibattito allora se non si riesce a comprendere in questo dibattito che la salvezza di Napoli sta nella salvezza della sua periferia e in particolare di quest'area nord di Napoli che è la più degradata dal punto di vista ambientale sociale e culturale allora si farà un lavoro non proprio accorto ecco io spero che nelle candidature nel dibattito complessivo che deve portare alle elezioni anche se di secondo livello ci sia un forte richiamo ai territori periferici perché è da lì che passa la riqualificazione e le grandi opportunità che ci sono anche per Napoli in questo devo dire abbiamo avuto un'ottima interlocuzione con il sindaco metropolitano Manfredi sui piani integrati c'è un'opportunità dei piani integrati e ancora una volta i sindaci dei comuni a nord di Napoli hanno messo a punto una bellissima idea quella di mettere in collegamento nell'attesa della metropolitana stazione di Fratta Maggiore stazione Porta di Afragola sistema circombesuviano di Acerra il che significa connettere anche se su gomma anche se con bus elettrici anche se su mobilità sostenibile la possibilità di dare la possibilità ai nostri ragazzi e a chi lavora di connettersi con tutto il mondo perché non solo con la città di Napoli ma anche attraverso la stazione Porta con tutto il mondo perché è un hub ormai internazionale questa è l'altra grande idea sulla quale stiamo lavorando ma il dibattito politico per le elezioni deve essere incentrato su questi tre punti riqualificazione ambientale riqualificazione culturale e riqualificazione sociale e città metropolitana ha il ruolo fondamentale da questo punto di vista Sindaco posso dire da giornalista ci è entrato il problema perché noi dall'elezione di Manfredi di città metropolitana non ne abbiamo proprio sentito non abbiamo avuto sentore neppure una notizia di incontri di accordi di prospettive e di progetti quindi questo è un punto che dobbiamo tenere molto monitorato ecco sotto attenzione parlavi prima dei giovani ecco il lavoro noi qui a Caivana avete un'area industriale ecco che allora quando si presero dico molto crudo col termine si presero presero questi terreni che erano ad alto reddito agricolo ecco un'agricoltura fiorente di primo livello però una alla volta queste fabbriche questi stabilimenti chi ha chiuso chi stenta com'è la situazione adesso e che prospettiva voi avete devo dire che un altro dei fiori all'occhiello che credo di vantare perché quello che è esistito in questo nostro territorio ma credo che attenga un po' a tutti i territori della nostra provincia è sempre stata una separatezza tra gli agglomerati industriali e le cittadine che le ospitavano che è una separatezza che fa male a entrambi perché non si riesce a giocare una partita unica si vede l'uno in contrasto con l'altro e soprattutto non si determina quel senso di appartenenza che è fondamentale in tutti i processi di sviluppo beh noi abbiamo messo proprio nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo in piedi quattro progetti insieme al consorzio ASI quindi una collaborazione istituzionale tra il comune di Caivano e il consorzio dell'agglomerato ASI anche con il consorzio di secondo livello il CSA che sta e che lavora all'interno del consorzio ASI in modo meritevole e devo dire anche nell'immaginario insomma anche visivamente si vede che stanno facendo una grandissima riqualificazione abbiamo messo in piedi un progetto di riqualificazione e riamodernamento del centro di servizi dell'area ASI nel quale c'è un altro progetto sulla formazione non una formazione asettica che va al di là delle necessità ma che è coerente con le necessità delle aziende che lavorano nell'area ASI quindi una formazione che è mirata all'occupazione immediata perché se servono gli elettricisti bisogna formare gli elettricisti in funzione della necessità dell'algida piuttosto che del caffè Borbone rispetto alle esigenze che ci sono di quelle aziende l'altro progetto è sulla possibilità e miglioramento del sistema antincendio che ovviamente per le nostre aree ASI è fondamentale e infine un progetto di riforestazione interna ed esterna all'area ASI il che significa che anche quelle famose puzze che noi sentiamo d'estate è l'unica cosa è migliorare l'area attraverso le barriere naturali alberi 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 perché sono quelli che producono ossigeno e producono aria buona e Dio solo sa di quanto ne abbiamo necessità quindi una forte collaborazione un agglomerato ASI che nonostante i momenti di crisi le difficoltà anche energetiche che si stanno appalesando ultimamente è viva e vegeta ha delle eccellenze importanti e lì stiamo lavorando anche un progetto di marketing territoriale che senza nascondere le problematiche di natura ambientale che ci sono ovviamente nei nostri territori deve anche avere la capacità di mettere in rilivo le grandi eccellenze faccio riferimento a Denigris perché è uno degli acidifici più importanti e esporte veramente in tutto il mondo con la sigla prodotta a Caivano quindi insomma credo che sia un vanto l'Algida non ne parliamo Free System ci sono veramente Caffè Borbon ci sono delle eccellenze anche dal punto di vista agroalimentare che sono veramente un'ompiore all'occhiere e noi su questo dobbiamo puntare su un marketing territoriale che ci affranchi dall'immagine solo della terra dei fuochi ma che dica anche che siamo terra di eccellenze questo è l'altro passo importante che dobbiamo fare di eccellenze le eccellenze ce ne sono e ne sono tante tu hai citato giustamente Denigris che è il vanto l'orgoglio della nostra terra che ormai è ramificato in tutto il mondo con i suoi prodotti in primis con l'aceto sono rimasto colpito da come il sindaco di Caivano Enzo Falco diceva alberi 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 ma quando ci chiamerete per fare una cerimonia per la messa a dimora del primo albero? in realtà lo faremo adesso arriveranno le risposte del contratto istituzionale di sviluppo ma anche le quattro aree verdi che saranno ovviamente assoggettate a piantumazioni di alberi le dobbiamo piantare tanti tantissimi perché oggi forse l'opera pubblica più importante sono esattamente gli alberi perché anche rispetto al cambiamento climatico io credo che noi possiamo dare un contributo complessivo esattamente attraverso questa grande infrastruttura che non è solamente ossigeno è anche frescura è anche riqualificazione è anche bellezza se immaginiamo tutti gli alberi che sono morti lungo i reggi lagni ripiantumare gli alberi lì probabilmente non i pini marittimi ma i leci più la diciamo la macchia mediterranea costruire una pista ciclabile che da no arrivi a Castelvolturno beh io credo che incominciamo a cambiare il volto dei nostri territori questo è l'impegno mio personale della mia amministrazione e di Caivano insieme a tanti sindaci che hanno sposato questa linea questo è l'altro aspetto rivoluzionario che si sta determinando faccio l'ultimo esempio che mi sembra anche lì congruo per la collaborazione che si è determinata rifare e abbiamo fatto veramente un accordo di programma tutti i sindaci per rifare via tellana la via storica la via antica quella di cui ha i reperti archeologici che sono a Sant'Arpino a Caivano in tanti altri comuni che da Caivano fino alla stazione di Aversa sarà rifatto completamente richiamando esattamente quella storia quell'antica storia e anche gli aspetti del teatro ricordiamo le fabbule dell'atellane ricordiamo le macus papus e quant'altro quindi recuperare la nostra stazione significa ritornare ad avere quel senso di appartenenza e di bellezza che deve farci riappropriare di queste cose perché solo se stabiliamo di nuovo un legame emotivo tra noi e le cose che ci circondano possiamo salvare il nostro futuro progetto una grande prospettiva ma c'è ancora il Cavano arte come teatro funziona lì nel Parco Verde è un po' quello che state facendo per questo rione Parco Verde noi abbiamo presentato un progetto di riqualificazione permesso che per me deve essere abbattuto e ricostruito come sono state fatte per le vele a Napoli però io sono abituato a lavorare su una principale e anche sulla subordinata abbiamo presentato un progetto di riqualificazione di 8 milioni è entrato in un processo di finanziamento per il Pinqua ma sarà presentato anche e è stato presentato anche per il CIS a febbraio iniziano i lavori per riqualificare la Delfinia con un progetto financing e sarà anche bello e innovativo perché si utilizzeranno dei micropali eolici per la produzione di energie elettriche e questo secondo me è una grandissima novità per il teatro Caimano Art che è affidato sappiamo all'Augusteo quindi alla famiglia Caccavale che però devo dire è un po' latitante da questo punto di vista è stato richiamato in più di un'occasione abbiamo presentato un progetto di riqualificazione sempre nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo proprio ieri mi hanno telefonato da Roma perché bisognava sistemare il CUP che è un codice che identifica l'opera pubblica quindi immagino che non avremo problemi di essere finanziati da lì dobbiamo ripartire per ricrescere per quella riqualificazione culturale e sociale di cui parlavamo prima il teatro Caivano Arte quando era in piena attività che portava qui compagnie importanti nazionali stava nel circuito dell'Augusteo con la famiglia Caccavale è lì anche le scuole io ricordo che facevano tanti ecco quello è un plauso di questa amministrazione se riuscirà come spero a riaprire di nuovo i cancelli anche i cancelli della Delfina che non dimentichiamo da quel poco che so che ho visto girando era anche un polmone di verde importante in quella zona Caivano è l'ultimo o vogliamo dire il primo comune della provincia di Napoli dopo quella di Caserta ecco con Caserta con la città di Caserta con Marcianese e poi lì a Caserta abbiamo il sindaco Marino che è presidente del Lanci Campani ecco i rapporti penso ai progetti comuni che avete ecco qualcuno ho parlato di Acerre di Marcianese per quanto riguarda i reggi lagni noi siamo terra di canapa qui c'è questo bellissimo quadro di un faraone proprio sulla coltivazione sulla macerazione della canapa nei reggi lagni è chiaro non possiamo tornare a quell'epoca storica ma sappiamo anche per il mio impegno che è stato recuperato la coltivazione proprio a Caivano da un contadino che oggi produce delle cose che vanno in tutta Europa e quindi anche questo è un elemento di vanto con Caserta con Marino c'è un ottimo rapporto anche per l'adesione del comune di Caivano a Lanci che è comunque una struttura che tiene insieme il comune ed è un elemento fondamentale di unificare le forze ma un progetto che io vorrei portare avanti appena ci è possibile come abbiamo recuperato con questa cosa che dicevo la via Tellana l'antica via Tellana beh sarebbe interessante e bellissimo recuperare anche lì sul piano storico l'antica via Sannitica che da Caivano porta esattamente a Caserta alla reggia perché il Grisle passava esattamente da queste parti anzi io ho letto una bellissima cosa che c'era proprio sui reggi lagni c'era un'antica osteria si chiama Osteria delle Foglie dove si stazionava evidentemente si rinfrancava un attimo e poi prosegueva per Caserta per la reggia quindi un'idea guida anche per superare questo vincolo anche di natura geografica di confine perché insomma Caserta e Napoli sono tutt'uno è un'unica area metropolitana sostanzialmente anzi l'intuizione di Carlo III di Borboni di fare la reggia a Caserta significava esattamente incominciare a pensare a un processo di sviluppo che entrava nell'entroterra più che continuare a insistere sulla costa che è il tema ancora attuale nel 1752 quando è iniziato credo che ricorra proprio in questi giorni l'inizio dei lavori per la reggia di Caserta Carlo III indicava già una strada di decongestionamento della costa e che è un tema ancora di città metropolitana perché il problema nostro della regione Campania è esattamente dell'area metropolitana di Napoli quella che ingloba anche Caserta la Graversano e la Graatellano per chiudere un minuto cosa ti senti di dire ai tuoi concittadini so che tu vivi molto Caivano la tua famiglia e il papà che ho conosciuto il fratello quindi cosa ti senti di dire a questa comunità che è sempre stata per la verità molto sobria speranzosa di dire a questi cittadini che aspettano da tanti anni un'inversione di tendenza vuoi chiedere necessariamente un po' di pazienza perché purtroppo i risultati non possono venire subito c'è un tempo inevitabile dopo 15 anni quasi di assenza di interventi importanti al di là delle delusioni che pure possono avere io credo che un sindaco debba stare alle polemiche e anche alle accuse dei cittadini sotto il giudizio dei cittadini non mi non mi leide questa cosa insomma la trovo assolutamente naturale normale anzi necessaria di stimolo di bungolo un po' mi diciamo mi arrabbio quando vedo un po' malafede e purtroppo ma anche questo ci sta un po' di pazienza risolviamo veramente risolveremo grandi problemi ma soprattutto avremo la capacità la prospettiva di una Caivano nuova diversa che possa riprendere il ruolo anche di leadership di questo territorio che purtroppo ha disperso negli ultimi anni però io voglio ribadire con forza non è solo un sindaco o un'amministrazione che risolve le questioni di una città c'è bisogno assolutamente che un popolo intero si metta in movimento la parte migliore di questa città si mette in movimento che faccia rete che crei sinergie abbiamo abbiamo veramente straordinarie presenze eccellenti devono giocare una partita comune ovviamente a partire dalla responsabilità che l'amministrazione deve avere nel dare sfogo spazio respiro a queste eccellenti ma tutti ci devono mettere loro il loro proprio diceva John Fitzgerald Kennedy non domandarti che cosa solo l'America fa per te ma dici pure tu che cosa puoi fare per l'America è un po' la stessa cosa in tutte le comunità è così non bisogna solo aspettare quello che fanno gli altri bisogna diventare protagonisti tutti quanti di una nuova rivoluzione di un nuovo rinascimento se mettiamo insieme tutte le forze sicuramente arriveremo adunque c'è sindaco Enzo Falco per questa chiacchierata e aspettiamo ancora una chiamata per i prossimi giorni quando andremo a tagliare speriamo qualche nastro effettivo grazie ancora grazie